Un materasso e delle coperte all'interno del Parco Pertini ad Arezzo. Ci troviamo al Parco Giotto e come vedete alle mie spalle c'è un materasso, alcune coperte, dei segni del fatto che qualcuno possa aver scelto questo posto come giaciglio per la notte e al riparo dalle intemperie. Ci troviamo nella galleria del bar del Parco Giotto, chiuso per ferie e da qualche giorno questo materale è proprio rimasto qui, abbandonato. È da diverso tempo che ci dormeva un cristiano. Ecco, qui ci dorme? No, ora non c'è più, l'ha portato via, l'ha portato. Ma è stato quasi un annetto che dormeva qui. Anche con il bar aperto? Sì, sì. Alla sera dormeva qui, alla sera. Portava il materasso e poi lo riportava? Il materasso non nascondeva in mezzo a queste piante qua, non nascondeva lì che hanno tagliato le piante ora. Poi lo portavo qui la sera, ci stavano fino a mattina alle 8, finché il bar era chiuso. Appena il bar apriva lo portava via. E ora che è chiuso per ferie è rimasto lì il materasso? Sì, ma intervenne la polizia municipale, intervenne, lo portarono via, dopo ritornò, non so, dopo quello che ha fatto. Era una persona italiana, straniera, un anziano? Un straniera, un marrucchino. Anziano? No, una certa età, una sessantina d'anni soprattutto. Adesso non abita più qui? No, no, non dorme più qui.